Ciao Amedeo Ciao Cara Ci troviamo al Tartaruga di Macerata Amedeo è venuto qui per il nostro evento Delirio a Natale Volevo ringraziare Mario di Radio Android e lo staff Euphoria per l'invito, grazie mille Prima di tutto presentati Ciao, io sono Amedeo Preziosi Sono un ragazzo di 20 anni che fa video su internet E a quanto pare piaccio molto ai ragazzini Bene, come nasce la tua carriera da webstar? Ho un canale YouTube da 6 anni che non si cagava nessuno Ho caricato un video da YouTube a Facebook E' piaciuto molto, sono abbastanza ignorante Ho molta creatività e questa cosa piace alla gente E' una passione che si è trasformata per ora in un lavoro Com'è nato il personaggio del Fumagalli? Fumagalli è ispirato a un mio ex compagno di liceo Che parla veramente così, so che sembra una cazzata Ma è così, sempre fatto e quindi ho detto Questo personaggio mi piace E niente, è molto riuscito, come personaggio piace molto Noi ringraziamo Amedeo Preziosi per averci concesso questa intervista E adesso lasciamo fare la serata E divertirsi in mezzo a tutti noi Grazie a voi Bella raga, alla prossima Alla prossima Puttana sono a me, fatemi passare Woo!